La danza, quando sono con gli amici o con le persone che amo, Marco che ride, quando faccio qualcosa di bello per una persona, il mare. Tante cose, per esempio stare con i miei figli, fare bene il mio lavoro. Gli anni, viaggiare le scappe. A me l'amicizia è viaggiare, a me l'amicizia, la beneficenza è la aiuto! A me lo shopping è l'amicizia. Passare pomeriggio in oratorio e stare con i ragazzi. Allora la musica è stare con gli amici e le donne, le donne. La serie A è le donne. La felicità per me è essere in pace con se stessi, vivere bene con gli altri, le persone accanto, prima di tutto. Poi c'è tutto il contorno, c'è la famiglia, ci sono gli amici, i familiari, i colleghi. Felicità è essere all'aria aperta, non avere timore di tanti pericoli che sono in giro, ricavarti il tuo spazio, andare in bici e il mare. Grazie a tutti!